E lei, signora? Non interviene? Non le interessa? Non sono qui per fare politica, ma per fare lezioni a chi vuole seguire. Quando l'ho conosciuta, vostra madre distribuiva volantini per il Partito Comunista. Ok, sono stata comunista. Per tre anni, mi devo vergognare. Ah, Fabien! Mi sono iscritto alla normale superiore grazie a te. È il suo prediletto, non lo sai? È il figlio che avrebbe voluto avere. Il mio esatto contrario, sia da un punto di vista fisico che intellettuale. Scusate un attimo, io devo andare. Era mia madre, pazza. Devo correre da lei. È la terza volta che ci chiama queste settimane. Il pompiere che si è preso cura di me era davvero carino. Non dirmi che hai comprato altri vestiti. Barbara, ma stai scherzando, vero? Da quant'è che va avanti? Già da un po' di tempo. Ma che stronzo. Dai! In ogni caso, noi donne dopo i quaranta siamo pronte per essere buttate via. Vedrai che troverai subito qualcun altro. Quando ci penso, ho ritrovato la libertà. Una libertà totale che non conoscevo. E' straordinario. E' straordinario. Grazie. Grazie.